Siamo notati Gesù e Maria? Siamo notati Gesù e Maria! Fratelli e sorelle carissimi, quando ci sono i bambini io ho sempre questa piccola abitudine scello un po' e facciamo 5 minuti con loro e anche con i grandi e poi 5 minuti con i grandi e anche con i piccoli Allora, festa di oggi, che festa è? Pentecoste, è la festa della discesa dello Spirito Santo su tutti noi Ok, per i più piccoli, un po' di carichismo, vediamo un po' Quest'anno qui non ci sarà nessuna cresima purtroppo, disgraziatamente Però, nessuno farà cresima, amici miei Siamo tutti troppo piccoli ancora Qui le mamme di Sermoneta, vabbè, devono darsi un pochino di impegno Quelli un pochino più giovani Allora, sentite un po', sapete che c'è un sacramento? Avete sentito la prima lettura, no? Il giorno di Pentecoste, c'era la Madonna con gli Apostoli Lo Spirito Santo, le Rigo di Fuoco e scendono sugli Apostoli E comincia la missione della Chiesa Annunciano il Vangelo, eccetera, eccetera Qual è il sacramento in cui la Pentecoste diventa realtà oggi per noi? Qual è? Ho già risposto, eh? La Cresima Nella Cresima Viene il Vescovo E stende le mani su di voi Gesto che simboleggia l'imposizione delle mani La discesa dello Spirito Santo E chiede allo Spirito Santo di venire su di voi con i sette doni Che vi siete già imparati i sette doni dello Spirito Santo? Quelli si imparano prima della Cresima Ve li dico, intanto in anticipo, eh? Anche per... I grandi li sanno? Qui dice, certo a sole ed vige È meglio che non facciamo troppi sondaggi Perché se no i parroci corrono il rischio di Vandarsi per storto le solennità Allora, per i piccoli e per i grandi Il primo e il più importante dono è la sapienza Il dono più bello che esiste Che è la capacità di vedere le cose con gli occhi di Dio Tutto trasformato, tutto bellissimo Il secondo dono che oggi ce n'è tanto bisogno Nel nostro mondo contemporaneo Sapete qual è? L'intelletto Che aiuta il nostro intelletto a funzionare bene E in modo soprannaturale Siccome oggi, non so voi che impressione avete in giro Ma Gli intelletti A Roma si dice T'ha magnato il cervello il gatto Io ne vedo in giro abbastanza Insomma, no? Quindi L'intelletto come dono soprannaturale Lo invochiamo con tutto il cuore Sapienza e intelletto Il terzo, altro dono importantissimo Il consiglio Quando dobbiamo prendere delle scelte Delle decisioni che non sappiamo che fare E vogliamo Chi è il più grande consigliere? Quella è la cosa migliore da fare In tante circostanze La cosa migliore è quella che Dio vuole Ma non sempre è facile capire Dice in questa situazione Che vorrà Dio? E questa è una domanda che tutti Specialmente i grandi Guai a noi se non ce la poniamo Perché se facciamo quello che Dio vuole La vita va alla grande Se facciamo quello che vogliamo noi La vita Per par condicio Cambiamo regione Quei dialetti Passiamo alla Sicilia Va a Schifio Sicilia dicono così Dopo un modo più di qualcosa Di napoletano Quarto dono Che è proprio quello Della Cresima Eccoli Vedete Questo è il dono Che rappresentano Tutti questi nostri amici Che stanno qua Vi piacciono questi qua? Per assicure Bambini Vi piacciono? Eh? Da grande diventate come loro? Sì? Con una spada bella Rossa Non personale in testa La spada dei Cavalieri di Cristo Quella è Ok? Ecco Ok Il dono della fortezza Quelli che sono forti Quelli che non hanno paura Voi quando diventerete più grandi Dera poco Forse già adesso Ci sarà qualche vostro amichetto Che lo prende un po' in giro Perché andate a messa Per esempio Andate a pressar prete Andate a pressar prete No? Andate a catechismo Ma oggi non c'è Francesco Ma generalmente Quando qualcuno diventa Chirichetto Lo rovinano Lo fanno proprio nero A far Chirichetto Su un artare Con un prete Mamma mia Che vergogna Vergogna Sapete che questi signori Stanno tutti quanti Sempre in piedi Perché sono Stare in piedi Vuol dire Io sono fiero Della mia fede cattolica Noi tra poco Ci metteremo in piedi Quando professiamo la fede Sapete perché La professione di fede Si sta in piedi Loro stanno in piedi sempre Perché sapete Hanno come funzione La vigilanza nel Tempio di Dio Quindi stare in piedi Vuol dire che stiamo sempre allerta D'accordo? Credo che sia La corretta interpretazione Di questa cosa Io penso Quando vedo le cose Non ne ho parlato Però dico Perché fanno così? E faccio qualche Piccolo sindogismo aristotelico No? La fortezza Noi siamo fieri Di essere cristiani Noi non ci vergogniamo Di essere cristiani Anzi noi siamo pronti A difendere la nostra fede Pure a morire Sapete Quando uno riceve la cresima Vuol dire Lo spirito santo Ti dà una forza Che se qualcuno viene Dice O rineghi la fede O ti ammazzo Tu che fai? Ne faccio ammazzare Rinneghi la fede Ma io te rompo le ossa Eh? Non lo sai No? Scusate Questo è il mio linguaggio Per i ragazzi del catechismo Quando qualcosa che non va Lo sanno che io Bravo Quinto dono Fortezza La scienza Non la scienza Che dicono adesso in giro Eh? Lasciatela perdere quella lì Eh? La scienza La scienza di cui si sciacquano Tutti quanti la bocca No no Questa scienza È la conoscenza Profonda E corretta Delle cose Anche di quelle umane Pensate Vi faccio un nome Soltanto di due scienziati cattolici O di uno Sul mio sito web Ci stanno tutte quante le catechesi Se volete farvi un regalo Andatevele a sentire Conoscete Enrico Fermi Figlio spirituale di Padre Pio Che parlava degli atomi E delle potenze Alla elevato A E faceva dei discorsi Straordinari Oppure Antonino Zichichi Non c'è sul mio sito web Ma su YouTube Ci sono un bel po' di video Dove rovina tutti quanti Quelli che ancora pensano Che noi deriviamo dagli scimmioni Come vi dicono a scuola Sicuramente Che vi dicono a scuola Vi dicono che noi deriviamo dalle scimmie Dagli scimmioni Quando vi dicono così Sapete che io dovete dire Con tutto il rispetto Professore Oppure professore Tu Vieni dagli scimmioni Io no Ok? Se risponde così Eh? Vi do l'ho permesso io Sesto Sesto dono Non ritendi che questa è la verità Ma tu puoi mandare a parlare con me Ci vengo io a parlare con me Non preoccupare Tu dopo Chiamami a me che ci parlo io poi Tu dici Tu vieni dagli scimmioni Io Vengo da Domino e Dio La mia anima l'ha fatta Nostro Signore Il mio corpo è Figurati Gesù è diventato uomo come me La Madonna C'era un corpo santissimo Quindi tra lo scimmione Ma voi immaginate Ma la Madonna Ma scusate Ma la Madonna Ma potete rifare dagli scimmioni La Madonna? Ma scusate un attimo No? Ma dico Ma noi facciamo i cattolici Dico Ma potete rifare da lo scimmione La Madonna? Il corpo virginale di Maria Santissima Ma scusate Scusate Ma siamo seri No? Oh La sesta cosa Il sesto dono La pietà Attenzione La pietà Non è Vabbè questa vale pure per i grandi Se no dopo diventa troppo lunga È andata così Non volevo neanche andasse così Ma è andata così Sapete che cos'è la pietà? Non è come quando noi diciamo Abbi pietà di noi al Signore Noi diciamo Senti noi siamo peccatori Tu perdonaci Abbi pietà No? Così come una persona che sta in difficoltà Ti chiede Abbi pietà di me Ho sbagliato Perdonami Oppure Ciò fa Abbi pietà di me Fammi delle mosina No? Non è questa pietà La pietà è un'altra cosa In latino si dice Pietas Che viene da Pio La persona Pia Avete mai sentito parlare di padre Pio O di tutti quanti i papi Che si sono chiamati Pio Grandi papi Guardate Pio nonno ha fatto l'immaculata Pio dodicesimo Ha fatto l'assunzione Il quinto dogma mariano Che io tanto desidero Che qualcuno lo faccia Un papa Se dovrai chiamare sicuramente Pio O Pio O come nome singolo Oppure sicuramente vanno dei modi Dei nomi doppi Se si chiamerà in qualche modo Però un Pio Ci deve stare mezzo per forza Allora Chi è una persona Pia? Il dono della pietà Una persona Pia è una persona Che è devota al Signore È una persona che prega Capite? È una persona che ama il Signore Per esempio Qui nella casa di Dio Voi state imparando piano piano Quante volte Voi ho detto Sapete che uno dei compiti Di questi bei signori Sapete qual è? Loro sta a fare Come dire Il controllo Come dire Nei templi Nelle chiese Cioè Che chi entra Non strilla Non fa l'altra voce Tutte le cose io dico Le guide non entrano Facendo macello Chi entra in chiesa Stia conciato in un certo modo Non si manchi di rispetto Verso il Santissimo Sacramento Se c'è la Santa Messa Si entra per stare a Messa Ma non per fare macello Durante la Messa O per fare le visite Perché? Perché questo luogo Questo è un luogo Che è abitato dalla presenza di Dio E Padre Pio Che era uno Che la sapeva lungo Diceva che In questo luogo Si fanno due cose O si parla di Dio Come sto cercando Di fare io adesso O si prega Tra poco diciamo il credo Quindi si parla con Dio Basta Il resto non si fa Certo Se sto statutendo Mi serve un fazzoletto Posso chiedere al vicino Mi dai un fazzoletto Però io ve lo chiedo così Se proprio si deve parlare in chiesa Non si parla a bassa voce Così Ma si parla sotto voce Così Capito? Come quando ci stanno i segreti Con gli amichetti Da deve sentire nessuno Non devo la mosca Ok? E non si gioca A pallone davanti alla chiesa E non si via come porta Del pallone E il muro della chiesa Se no io vi rompo le ossa Ok? Bene Ultimo dono Poi abbiamo finito Siamo già andati oltre il tempo massimo Il timore di Dio L'ultimo dei sette doni Il timore di Dio Vediamo Timore di Dio Significa che Dio ci mette paura E come c'è paura di Dio Sapete noi di chi ci abbiamo paura Noi figli di Dio Di chi ci abbiamo paura Di due Di niente e di nessuno Chiaro? I figli di Dio ci hanno paura Di niente Non ci abbiamo paura Né della morte Né delle malattie Né delle dis... Zero E di nessuno Né del diavolo Né dei cattivi Né dei tiranni Né degli oppressori Dei perseguiti Zero Chiaro? Il timore di Dio Significa questo qui Che Punto primo Abbiamo il senso Della grandezza di Dio Cioè Abbiamo sentito la seconda lettura di oggi No? Quando c'è lo spirito santo in noi Noi Dio lo chiamiamo addirittura papà È un nostro amico È un nostro intimo Gli vogliamo un bene dell'anima Però non ci dimentichiamo mai Che io sono io E lui è lui È Dio È più grande di noi E quindi il timore di Dio Sapete che significa? Significa che io Piuttosto che dare un dispiacere al Signore E fare una cosa che non gli piace Una cosa brutta, no? Voi pensate Uno dice una parolaccia Brutta Una parolaccia volgare E Gesù ti sta sentendo E la sente Diciamo Non è tanto contento Quei diciamo Che dite? Gli diceva le parolacce a Gesù Secondo voi A Madonna gli diceva le parolacce Allora Quella non è una cosa Che fa tanto piacere Certamente Ci stanno peccati Certamente più grandi No? Sto dicendo una cosa Che voi potete capire Ieri avete fatto una prima confessione Siete contenti Vi sentite un po' meglio? Nella serie tenuta un po' la grazia O già Stiamo già in crisi Vabbè Quindi Il timore di Dio vuol dire Che io voglio talmente bene al Signore Che Anche nel poco Faccio attenzione A non dispiacermi Ma non perché C'ho paura Che mi sbatte all'inferno Che andiamo in purgatorio Per carità Se facciamo i peccati mortali All'inferno ci andiamo E se facciamo i peccati pennelli Il purgatorio ce lo dobbiamo fare Ma più che questo Cioè le conseguenze negative del peccato Mi dispiace di avergli dato un dolore Ma questo quanto sono belli I moni dello Spirito Santo Vabbè Questo va bene anche per i grandi Penso Quindi possiamo Chiudere che se no L'omedia diventa troppo lunga L'omedia non deve essere mai troppo lunga Quindi Una santa pentecoste a tutti E che Possiamo avere I cuori Pieni dello Spirito Santo Per avere i cuori Dello Spirito Santo Ci vogliono tre cose Pieni dello Spirito Santo Sacramenti Vissuti bene Preghiera Bene E tanta E come dice Gesù Se mi amate Osservate i miei comandamenti Vivere sempre Nell'osservanza della legge di Dio Fatto questo Lo Spirito è in noi E più andiamo avanti E più la sua presenza cresce E più santi Con il suo aiuto Diventiamo Siamo lodati Gesù e Maria Siamo lodati